Musica Ho raccontato in conferenza questa battuta che mi ha fatto un collega svedese venendo a Napoli da Stoccolma che ci era venuto un po' di anni fa e che la prima cosa che mi ha detto è che lui era rimasto molto meravigliato primo per il numero importante di biciclette che vedeva a Napoli perché fino a pochi anni fa non ce n'era nessuna adesso aveva visto le piste ma vedeva proprio un grande fermento in bicicletta e faceva una battuta che forse a Napoli si usa più la bicicletta di quanto si usa anche a Stoccolma incredibilmente Presentati questa mattina i risultati della quarta European Cycling Challenge iniziativa che ha coinvolto 40 città italiane ed europee per promuovere il trasporto in bici nel quadro di una mobilità sostenibile e di riduzione dell'uso dell'automobile 100 partecipanti monitorati con un'app hanno percorso nei loro tratti abituali oltre 7700 km sulle due ruote oltre alla pista ciclabile che resta la via prediletta sono stati evidenziati altri percorsi frequentati in bicicletta e dal 5 al 7 giugno alla mostra d'oltremare si svolgerà il Napoli Bike Festival per coinvolgere appassionati e curiosi Abbiamo già realizzato parecchi chilometri di ciclabile, adesso ne andiamo facendo un altro chilometro di ciclabile nell'ambito del primo del grande progetto Napoli Est che adesso stiamo facendo via Breccia Sant'Erasme e via dicendo faremo un altro chilometro, adesso quando partirà via Marina faremo altri 3 chilometri di pista per ciclabile quindi grande grande soddisfazione, spero, devo ringraziare anche gli organizzatori del Napoli Bike Festival che hanno accompagnato questa iniziativa e che domani faranno anche la premiazione di coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, quindi grande grande soddisfazione e speriamo l'anno prossimo di andare meglio